Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono King's Save Corporation Come state? Bene? Passate bene queste vacanze di Natale? Io... sì Vedete lì? Quello è il video di Fortnite del 7 gennaio Senza spoiler, attenzione Attenzione, sì Questo video lo sto registrando prima delle vacanze di Natale Quindi Sto facendo tutto in anteprima Così a meno faccio tutto completamente E ho il bagliore del signore Detto questo Un saluto dalla mia catta Allora ragazzi Questo video si chiamerà Gloriosi propositi Per il semplice fatto che Vorrei dirvi un po' Cosa succederà nel prossimo anno Sostanzialmente Oddio Qui si è allungato il bastone Non mi franitete Vabbè Avete capito Allora ragazzuoli Cosa succederà nel prossimo anno? Sostanzialmente poco Oppure tanto Dipende Allora Come ho già detto Porterò la nuova serie What If Che il primo episodio Mi raccomando ragazzi Uscirà il 5 gennaio Alle ore 18 Riguarderà L'episodio What If Di Kratos Dopodiché Settimana prossima 12 gennaio Sempre alle ore 18 Episodio dedicato A Joel E Terzo episodio Il 19 gennaio Sempre all'Ir 18 Ovviamente Anno 2022 Riguarderà Nathan Drake Nel videogioco Di Uncharted Eh sto facendo un buon lavoro Anche se Sto faticando un pochetto Perché C'ho un po' di mal di testa Mal di schiena Forse le sta In quella poltrona di merda Poi col pc Con la televisione PC televisione Per fare i gameplay È Snervante ragazzi È molto molto snervante Allora ragazzi Se sentite questo rumore È la play E non solo Sto Ehm Sì Bottiglie Gelate Allora intanto I download Stanno facendo Bene Molto bene Molto bene Allora ragazzi Ehm Mette Sto facendo questo video Devo editare L'episodio Del 7 gennaio Di Fortnite Quindi Non mi preoccupate Ah ragazzi È faticosa la vita È molto molto faticosa Ehm Questo è un vloghetto Abbastanza interessante Allora Prossimo gennaio Serie La mia serie Principale What if Game Si chiama What if Tre puntini Game Quindi è come E se gioco A questo gioco Se gioco A God of War Se gioco A The Last of Us Se gioco Uncharted Vabbè Avete capito La prima stagione Conterrà 6 episodi Mi raccomando Vedetevela tutta Perché La seconda stagione Sarà molto importante Dopodiché Ehm Febbraio Purtroppo Il progetto Remindescence Non si farà Ve l'ho già detto In una live E mi dispiace Mi dispiace un sacco Però lo porterò In futuro State tranquilli Tanto Mi colla il naso Non so perché Dicevo Prossimi acquisti Che farò Allora Tenete conto Che mi comprerò Horizon Forbidden West God of War Ragnarok Speriamo Che arrivi Qui a Cirevecchia Una nuova PlayStation 5 Speriamo Speriamo Spero di farmi Anche qualche Accessorio Del PC Per Fare Scusate Per la CPU Un po' più Stabilizzante E niente Spero In più giochi Il prossimo anno Video Dalla Marvel Vedremo Devo parlarvi Ancora di No Già Già L'ho portato Spider-Man New Home Bene bene A posto Quello che ho dovuto portare L'ho portato Ah Vi devo portare Il video di Hawkeye Quindi La serie tv Hawkeye Mercoledì ci sta L'ultimo episodio Quindi Siamo a cavallo Signori A cavallo Questo vlog Sarà Molto corto Però Sostanzioso Per il semplice fatto Che oggi Cioè Per me oggi È Il 19 dicembre Per voi Sarà Il 31 Visto che Lo state guardando Oggi Il 31 Ragazzuoli Spero che passate Questo anno In una maniera Assurda Sì ci sono i miei panni Lasciate perdere Spero che Passate Quest'anno In una maniera Assurda Aspettate Due secondi Allora Allora Ripeto Signori Spero che Quest'anno Riusciate A Passare Un buon anno Perché Quest'anno È andato Un po' così Alternante Sia buono Che cattivo Quello dell'anno scorso Non voglio neanche Pensarci Anzi Più passo negli anni Più mi scordo Quell'anno lì Che manco lo voglio nominare Sì che c'è piccola Che c'è Vabbè Sì Ok Senti Vuole un po' di affetto Dopo glielo do Non rompe i coglioni Scherzo Non è vero Ok Ragazzi Supportatemi Nelle live di Twitch Mi raccomando Non mancate Perché Ne farò Una lunedì Allora Vi dirò questo Perché mi sono Discordato il programma Domani Farò di mattina E poi di sera Dopodiché Martedì È l'ultimo giorno In cui faccio la live Ovvi Ah tanto Tanto sarei 31 A voi Quindi Che cazzo vi prega Vabbè Farò un vlog A parte Prima Pre Pre natalizio Quindi Non vi preoccupate Sarò un vlog Di quanto Due minuti Tre minuti Boh Non lo so Vedremo Vabbè Fatto sta che Martedì Di mattina Sarà l'ultima live L'ultima 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 E Spero di Farvi Contenti Perché Dopodiché Poi le live Fino a fine gennaio Non le farò Abbandonerò Un po' Twitch Spero che voi Non mi abbandonate Però Perché Tanto le novità Su Youtube Le porto Quindi Detto francamente Io Devo fare tanti video Madonna Quanti video Devo fare Quanti video Oddio 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 Un enorme augurio Per il prossimo anno In bocca al lupo E Che dire Io quest'anno L'ho affrontato Nei migliori dei modi Lavoro Twitch Eccetera 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 Anche il guadagno Certo Il guadagno E spese Quindi signori Da Kingslave Corporation È tutto Seguitemi su Instagram Su Youtube E su Twitch Come Kingslave Corporation Nuova pagina Instagram Kingslave 18 La mia pagina principale Qui sotto Trovate Il link Se volete Sopportare Se volete Lasciare Un ultimo regalo Di Natale Oppure Un ultimo regalo Di buon anno Di un nuovo anno E dai Su Qualcosina Almeno Ci guadagno Per farvi divertire Per portarvi Nuove esperienze E E che cazzo Detto questo Io vi saluto Buon anno a tutti Ciao Gary